Bella ragazzi, nel video di oggi faremo una challenge assurda dove dovremmo fare 3 vittorie di fila e se perdiamo almeno una partita dovremmo scioppare lo Stumbler speciale nello shop. Andiamo a farci l'ultimo Stumbler Superstite e vediamo un po' perché è un nuovo torneo che hanno messo e inoltre hanno aggiunto pure le nuove ricompense del torneo che sono state aggiunte proprio oggi. Ci sono un botto di cose nuove tra cui lo Shark Chase, il Twisted, il No Cake For You, ma soprattutto abbiamo il Laser Shark e una skin speciale al Twisted alla fine. Questa qua sarà una prossima challenge e faremo un altro video, quindi tenetevi pronti con la campanella inattiva. Ovviamente, sparate un bel like in questo momento. Iniziamo subito con la prima partita. Aia, iniziamo su One Night Drop. Questa la vedo già male, la vedo già malissimo. One Night Drop all'inizio e di solito le vinco. Ci sono anche italiani, mi vedono e mi picchiano tutti come sempre. Devo stare attento, devo stare attento. Io mi faccio piano piano qua. No, 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 no. Sì, 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 sì. No, 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 no. Sì, così mi piace. No, mi ha dato un pugno. Salvati! Attenzione, qua è rischiosissima. Si rischia alla fine. Si rischia alla fine. Si rischia alla fine. Sa! No! Qualificato. Qualificato. Abbiamo rischiato tantissimo. Laser Tracer. Qua veramente ci vuole un miracolo per farmi sopravvivere. Se non piva almeno 3-4 pugni, io comincio a saltare. Con la mia tattica salta per evitare calci e pugni. La vedo malissimo. Già, guardo quel fetente come... Guardali, guardali! Ma, ma, ma io... Aia, aia, aia! Porca paletta, che rischio qua? C'ho tipo 70 persone che mi danno pugni in questo momento. Forse ne ho killato uno, grande la kill. Vai, vai, vai! Guarda come resiste lo sparsone! Ma! Ma! Lasciatemi! Hai paura, ho paurissima. 6 su 8! Ma queste se non sono partite posso fare io? Porca paletta! E schiattate! 6 su 8! Dai, l'ultime due morti! L'ultime due morti! Non voglio essere io! Non voglio essere io! Non voglio essere io! Vai! Qualificata ancora una volta! Si um! Si va sul laser dash! E qua la vedo malissimo! Lì, perché qua basta un calcio e finiscono i laser. Per fortuna non ci sono trick abbastanza. Potevano mettere pure block dash leggendario qua, no? Sarebbe stato fighissimo! Bel pugno qua, comunque. Ok, uno già è morto. Svampadissimo! Stai per morire pure l'altro. Vincere è quasi impossibile! Uh! Buono! Terzo morto! Me ne sto qua! Mi faccio i cavoli miei! Sti cavoli! Quarto morto, vai! Ne mancano pochissimi! Quinto morto! Aia! 5 su 7! C'è stata la principessa e il pulcino mio! Il pulcino mio è capottato! Attenzione, provo il kick! Posso andare di qua senza problemi? Buono! La vince! La vince! Prima partita andata! Penso sono le parti più difficili che ho fatte in vita mia! E ci riscuotiamo subito le primi 15 gem! Prima challenge è fatta! Andiamo alla seconda challenge! Ce la possiamo fare! Dai, 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 dai! Ancora un head drop! Ma c'è sempre un head drop nella prima mappa? Cioè, è fissa? Per poter dubbio! Vado da qua! Vado da qua! Pam! Mi sono tolto uno intanto! Ok, va bene così! Qua dove vado? Vado qua! Poi qua! Vado al centro! No, 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 no! Meno male! Qualificato, dai! Si va al secondo round! Anche questa è abbastanza faticosa come partita, eh! L'Avaland è impossibile per me! Cioè, vincere sull'Avaland è tipo... Scappa finché puoi, finché non ti ammazzano tutti! Guarda, guarda, guarda! Ai! Aia! Aia! Aia, io ti prego le michillate! No, meno male che ci stava il muretto qua! Oh, ma che è qua? No, 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 no! Arzati! Ma... Ma tu pensi che non ti vedo che mi ce l'hai con me, tu? Eh, beccati il suo pugno! Qualificato! Oh, non ci credo, raga! La qualifica più veloce del mondo! Però almeno una kill l'ho fatta! Quel petente là del... Del Demon Diamond! Che mi voleva killà a modo suo! Pamma! Una bella gomitata qua! Bombardment! Ok! Vabbè! Una la dovevo perdere, giusto? È arrivata! Perché tanto qua perdo grazie ai pirati! Che al 100% mi elimineranno! Proprio 100%! Guarda le bombe come vengono attirate da Sparks! Guarda, 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 guarda! Incredibile! Guarda, guarda! Guarda! Ok! Non cascare! E invece sì! No, vabbè che... Che salvataggio, Startro! Che salvataggio! Oh, uno si è tirato... Ah, perché è estate? Ma si stanno buttando tutti in questa puzzagna! E c'è l'acqua guarda? Ci stanno a tuffare tutte da là! C'è la piscina, cos'è? Mi metto qua per... Nel dubbio! Egne! Via! Pussa via! Ok! Occhio a quel Dark! Occhio a Lola! Fa che si avvicina! Insidioso! Mi metto qua! Siamo rimasti in pochi! In quattro più che altro! Uno è morto? No, uno è morto! Ok, allontaniamoci! Ma c'è un maialino che sta correndo sempre! Il Pumba là! Yeah, Pumba! Esplodi! Porca paletta! Quasi chi l'ha del Pumba! Ma c'è la nave qua dietro! Porca paletta! Scappiamo! E mo? Sono nei guai! Sono letteralmente nei guai! Porca paletta! No! 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 Ma guarda, guarda che fetenti! Guarda, guarda! Tutti qua spanno! È rimasto il Pumba! Pumba! Vai, vai! Killalo! Killalo! Killatelo! Ma perché tutti da me stanno a venire? Bombe, non ho capito! Aiuto! Dai! Non ci credo! Sì! 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 Ho dato un corpo da ascella! È morto! L'ho stecchito con l'ascella! Seconda win! Zitti che forse non si scioppa, raga! Forse non si scioppa! Zitti che forse non si scioppa! Ma come le squadre ricompensa che non c'è niente? Perché giustamente 240 su 250 che è lo spazzismo! Allora, prima di proseguire farei un bel giro di ruota! Perché ho visto che ci stanno le ruote egiziane che stanno per sparire! Infatti 22 ore! E io ne farei ben 3 giri! Nel dubbio potrebbe uscire una bella Cleopatra che mi manca! Ma quando mai? Ma quando mai esce Cleopatra? Quando? Non uscirà mai Cleopatra! Mai! Mai! Non uscirà mai! Non uscirà mai ho detto! Ho detto non uscirà mai! Fa l'uscita no? Niente! Ma ha funzionato l'ha gufata! Niente! Perché dovevo farne 5! Quindi facciamo un'altra 2! E siamo a posto! Tanto lo stesso non esce Cleopatra! Attenzione! Oh! Oh! Porca paletta! Palettina! Non c'è credo! Ma non c'è credo! Guarda che... Ma che gioco fetente! Che gioco fetente! Andiamo a farci l'ultima partita raga! Vi ricordo che nella challenge dobbiamo fare 3 win di fila! Perché se ne perdiamo solamente una! Dobbiamo shoppare l'offerta da 15 euro! Ovviamente codice Sparks! Tutto è in questa partita! Ho fatto 2 win di fila! E adesso ho tutta l'ansia sulla terza partita! Sì! Vabbè! L'Avaland primo round! Ah! Proprio questa così dovevo perdere per forza! Se non mi arriva un pugno qua subito è impossibile! Cioè qua sono morto! Sono morto! Sono morto! Aspetta! Aspetta! Addio! No! Lo sapevo io! Lo sapevo! Lo sapevo! E niente! E ovviamente doveva perdere! Perché giustamente dovevo partire con... Intanto mi sono preso 20 gemmi! Ma non mi serviranno niente! Perché devo spendere 15 euro! Però col codice Sparks! Quindi sono soldi ben spesi! Vediamo dove sta l'offerta! Lo sta... Ma come 17 euro e 99! Ma che ho aumentato il prezzo! Ma niente! Ma costava 14 euro! Quanto era 15 euro! Ma... Ma come... Ma com'è possibile aumentato il prezzo! Ma perché? Perché ce l'ha con me questo gioco! Ce l'ha con me! Mia! Ma di solito costano di meno qua! Tipo il bando l'epico! Costa 3 euro nel gioco! No! Costa 2 euro forse! E qua costano 1,99! E questo è l'unica cosa che devo shopparire! A 94 euro! Non ha senso! Io non devo dire mai quello che shoppa! Quando lo dico! Mi aumento nel prezzo! C'è incredibile! Il codice Sparks c'è giusto? Almeno! Abbiamo una skin speciale! Almeno abbiamo fatto collezione! Perché comunque il robotino fa parte della nostra collezione di skin speciali! Perché gli altri non me ne frega niente! Attenzione! Una nuova offerta è apparsa! Di altri 18 euro! Ma non me ne frega niente! Ragazzi! Challenge persa! Ci vediamo nel prossimo video! Cliccate questo video se volete vedere il best trick della nuova mappa di StumbleGuys!